Sì ma è bene chiedere una cosa, la nostra posizione è quella che chiede chiarezza e trasparenza. Proprio a seguito delle dichiarazioni del dottore Zuccaro che le aveva rese dinanzi alla commissione Schengen e a seguito delle dichiarazioni del direttore di Frontex ci siamo piuttosto allarmati perché erano delle dichiarazioni forti che vengono ulteriormente confermate e ribadite oggi sempre da Zuccaro con ulteriori elementi. Questa cosa ci ha destato molto allarme anche sulla scorsa dell'esperienza passata con le cooperative anche lì ovviamente non si fa di tutto il buon fascio, ci sono delle cooperative che lavorano egregiamente e altre che purtroppo hanno lucrato e continuano a lucrare sulla pelle dei migranti lo abbiamo visto con Mafia Capitale. Ecco non vorremmo che esca fuori un altro scandalo similare con riguardo alle ONG quindi quello che il Movimento 5 Stelle ha chiesto e continua a chiedere è una maggiore chiarezza. Zuccaro evidentemente per fare delle dichiarazioni di questo tipo che sono piuttosto importanti starà conducendo delle indagini e avrà qualcosa in mano ecco questo vedremo poi gli sviluppi delle indagini conoscitive che sta portando avanti.